In intervista ai 7 ai laghi, abbiamo qui un'atleta che avevo detto che l'avrei intervistato a Palermo. Allora, la tua mezza di Palermo mi sembra che sia andata buona. Sì, è stata dura, ma bella. Allora, è chiusa in 2-0? 2-0-8. 2-0-8, diciamo che per il percorso che era era un buon tempo. Sì, perché è tutto un saliscente, bello, duro, impegnativo, a chi piace. Non è il mio percorso, però mi sono divertito. E cosa ti è piaciuto di più, dei passaggi che ti sono piaciuti di più? I passaggi più belli sono... A parte il passaggio che stai facendo in questo momento, andiamo. Questo passaggio qui dal tavolo alla bocca. Passare nel Palazzo dei Normani è stato bello. Il passaggio vicino alla Cattedrale, in Quattro Tranti, quello è stato veramente bello. Poi, vabbè, il parco della favorita, mi sono divertito lì. Peccato che non era nelle mie caratteristiche, però mi è piaciuta. Il tempo è stato buono. Il tempo è stato buono. Davano acqua, anche in tutti i tre giorni, tutto il weekend, ma alla fine l'acqua l'abbia presa ben forte. C'era che caratteristiche, ma giusto. Giusto caratteristiche. Va bene, allora chiudiamo. Siete queste raghi. Andiamo quasi ormai finita la stagione. Riprenderemo un po' la stagione prossima con le nostre interviste. Ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.